risolvere questo problema di sincronizzazione ho preferito lavorare in questo modo proprio per parlare di questa soluzione Scratch lavora, come tanti linguaggi lavora su istruzioni in sequenza quindi viene prima risolta prima viene eseguita un'istruzione poi ne viene eseguita un'altra e così via quindi abbiamo sostanzialmente un'esecuzione verticale se vogliamo far eseguire a Scratch delle istruzioni in contemporanea dobbiamo usare gli eventi noi conosciamo già degli eventi ad esempio la bandierina verde oppure i pulsanti della tastiera in situazioni quello che è stato tradotto in situazioni in realtà sono appunto degli eventi quando succede qualcosa all'esterno o all'interno del nostro ambiente quindi può essere un qualcosa di esterno il fatto che clicco sulla bandierina verde o clicco sulla tastiera può essere anche un evento che viene generato internamente per fare questo utilizziamo il blocco dei messaggi allora vi invito a sganciare tutta la parte interna della ripetizione e in questo modo in modo da tenerci separati quelle che sono le parti diciamo relative alla pronuncia e alla scrittura del scusate ecco qui alla scrittura del del nome dello sfondo allora riprendiamo il passo allo sfondo rimettiamo tutto qui dentro in questo modo così adesso andiamo ad aggiungere quelli che sono i comandi che ci permetteranno di richiamare queste due queste due sequenze secondarie per fare questo andiamo in situazioni e prendiamo due blocchi di invia a tutti messaggio 1 attendi invia a tutti messaggio 1 e attendi poi clicchiamo su il primo messaggio 1 e scriviamo clicchiamo su nuovo messaggio e scriviamo italiano in questo modo e qui invece scriviamo nuovo messaggio inglese perfetto poi sempre da situazioni prendiamo quando ricevo e lo colleghiamo con con ok con questo lo scolleghiamo scolleghiamo anche questa parte aspettate che mi faccia un po' di posto con lo zoom è un po' un problema prendiamo ancora quando ricevo e lo impostiamo ancora in italiano quindi quando ricevo il comando italiano l'evento italiano dirò il nome per due secondi e verrà pronunciato anche il nome sempre in italiano perché non lasciare i collegati perché altrimenti avrei ottenuto lo stesso effetto di prima cioè mando il comando e aspetto la sequenza otterrei lo stesso effetto di prima cioè il fatto del fumetto e la non sincronizzazione con con la voce un'altra cosa che vi faccio notare che non ho sottolineato prima ho messo il blocco invia a tutti e attendi diversamente dal blocco invia a tutti messaggio 1 in questo modo noi mandiamo il comando e scratch va avanti con il flusso principale solo nel momento in cui il flusso secondario giunge alla fine della sua esecuzione altrimenti otterremo che viene pronunciato in italiano e in inglese praticamente contemporaneamente adesso prendiamo un altro blocco quando ricevo e gli dico inglese per il secondo flusso per la lingua inglese faccio un po' vado un po' più in basso e facciamo di nuovo quando ricevo inglese perfetto in questo modo noi abbiamo creato dei flussi secondari ok dei flussi secondari con delle istruzioni che partono da questo momento quindi lui porta lo sfondo 2 ripeterà per 8 volte passa lo sfondo 2 quello che avevamo prima però quando arriva a questo punto cosa fa? invia a tutti italiano e attendi fatto questo quando lo stesso scratch riceve il comando italiano esegue queste due sequenze in contemporanea le esegue in contemporanea quando ha terminato di eseguirle attende un secondo e riparte con l'altro comando sempre in contemporanea la traduzione del nome scritto e pronunciato finito queste due sequenze ritorna nel flusso tendendo un secondo e ricambiando la variabile sfondo e quindi ritornando all'interno sempre ripetendo questa cosa per 8 volte provate vedete che dovrebbe funzionare il tutto questa è una soluzione interessante proprio quando voi volete far eseguire contemporaneamente delle istruzioni non solo può essere anche interessante per semplificare la lettura del di un eventuale script ad esempio la volta scorsa abbiamo fatto la geometria potrebbe essere interessante creare un comando a parte per il disegno di una forma geometrica da poter magari richiamare più volte insomma questa è una soluzione interessante proprio per organizzare in modo diverso la nostra sequenza di istruzioni bene abbiamo completato anche il secondo step faremo un terzo step dove aggiungiamo la parte di quiz quindi questa prima parte lo step 1 lo step 2 dove abbiamo sostanzialmente fatto un pseudo storytelling insomma abbiamo utilizzato il il gattino che pronuncia i nomi degli sfondi quasi una piccola lezione di come si traduce un determinato vocabolo un verbo in questo caso facciamo una parte un po' più ludica che è quella di creare un piccolo un piccolo quiz di